Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer Deci sempre ragazzi, prima di cominciare con il video mi raccomando iscrivetevi al canale perché oggi vi spiego come raggiungere questo posto dell'albero sacro e sconvincere il post innanzitutto dobbiamo regarci in questa zona, i soborghi dell'accademia quindi è molto semplice, dobbiamo regarci qua e cercare una parte, diciamo un pezzo di un medaglione quindi non ricordo se è la parte destra o la parte sinistra ma adesso velocizzerò il video e vi farò vedere un po' dove cercavo ok, questo è il posto, qui troverete un vaso enorme, quindi lo colpite e uscirà da quel vaso questo vecchio e questo vecchio cosa vi dirà? parlerà, parlerà, parlerà fino a farvi annoiare e vi darà un medaglione e vi darà quel pezzo del medaglione, ecco adesso vi faccio vedere uno di questi due pezzi quindi come trovare anche l'altro pezzo è molto semplice, sempre regarci in un altro posto ma questa volta andremo a farci un bel viaggio sulla neve eccolo qua, sta qua, sta proprio qua adesso vedo un attimo dove sta il castello, eccolo qua saliamo un po' su questo, questo qua ok, eccoci arrivati, qui dovete sconvincere un boss tanto chiamate la squadra e l'avete fatto in meno di 10 secondi e proprio qui dobbiamo salire sulla torre e recuperare l'altro pezzo del medaglione e poi andremo al monte a carichi e vi farò vedere anche come attivarlo perfetto, ora dobbiamo regarci qui al monte a carichi proprio qua e attivare il nostro ciondolo, tutto qua bene, eccoci arrivati, non fate caso alla vecchietta laggiù proseguite da questa parte e regatevi qua sopra qua sopra, mettetevi qua sopra su questo bel cerchio e come potete vedere in basso c'è scritto cambiazione quindi o sollevare il medaglione oppure il medaglione segreto noi dobbiamo sollevare il medaglione segreto per andare al, come si chiama, l'albero sacro antico ecco eccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati ok, adesso è un casino ve lo dico è una bella strada da fare dovete fare anche un sacco di cose prima di andare là quindi proseguite da questa parte fateci caso a questi mostri proseguite, proseguite, proseguite andate avanti girare a destra sempre tritta attenzione qua e siete arrivati ai campi di neve ora dovete raggiungere questo posto questo questo posto perché una volta raggiunto questo posto dovete fare una cosa una cosa molto importante entrare nella galera e spezzare quel sigillo accendendo le fiamme quindi state molto attenti perché ci sono degli assassini qua invisibili fate attenzione perché una volta rotto quel sigillo entrate là dentro e avete fatto siete arrivati all'albero sacro quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo lasciate like se il video vi è stato utilissimo è già utilissimo iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao ciao